Ciao a tutti amici di TecnoAndroid, IFA 2017 siamo venuti a fare un giro allo stand del gruppo Fossil, un gruppo che ovviamente ha altri brand sotto come il brand Diesel, Armani, Kragen, Misfit e che ha portato discrete novità ovviamente in tema di smartwatch. Smartwatch e orologi intelligenti, attenti perché ovviamente una persona può dirmi ad orologio intelligente la trasformazione di smartwatch, no, secondo il mio personale significato è un orologio con le lancette, un orologio tipico che ha funzioni da smartwatch. Ad ogni modo battute a parte iniziamo un tour e partiamo con gli smartwatch di Emporio Armani, degli smartwatch che poi ho visto hanno un prezzo intorno ai 300 euro quindi niente che non sia affordable, non si possa comprare. Andiamo a vedere, vi spiego subito perché sono interessanti, perché sono degli smartwatch molto completi sotto Android Wear 2.0, quindi l'ultima versione del sistema operativo assolutamente più interessante per smartwatch perché poi è il più completo. I modelli montano praticamente tutti quanti, purtroppo non si vede benissimo perché le luci non sono il massimo, i modelli montano tutti quanti, Snapdragon 2100, 4 GB di memoria interna e 512 MB di RAM. Ovviamente qui abbiamo purtroppo solo la versione in demo del dispositivo, il software non è ancora completo, sono tantissimi i modelli che vedete, sono dotati tutti i modelli che praticamente sono più che altro maschili di speaker audio e microfono. Chiaramente per quanto riguarda le funzionalità del software sapete bene che appunto è Android Wear, quindi sono quelle, però le watch faces chiaramente, se possiamo fare così, possono essere personalizzabili sulla base di quelle presenti per gli smartwatch Emporio Armani, come ad esempio questa, magari ce ne saranno anche di più poi nella fase commerciale, ma chiaramente questa è una versione demo. Ci spostiamo e andiamo indietro verso gli smartwatch di Diesel, sperando che il mio collega non si ammazzi perché è un po' bassa, c'è un po' di plastica bassa, andiamo verso gli smartwatch di Diesel, degli smartwatch veramente molto belli, smartwatch che mi sono piaciuti perché non ci sono solo versioni classiche con cinturini come questo, ma anche versioni un po' più rugged come questo, come quello in gomma. Anche in questo caso abbiamo un equipaggiamento hardware che praticamente è lo stesso, quindi Snapdragon 2100, 512 MB di memoria RAM e 4 GB di memoria interna. Ovviamente tutte le funzioni di Android Wear 2.0, speaker audio e microfono. Molto pregiati ovviamente i materiali di costruzione, ci spostiamo e continuiamo il tour, ci spostiamo da questa parte e andiamo verso, vediamo quali sono i dispositivi più vicini, allora, verso i dispositivi di Michael Kors che prima mi sono dimenticata di accennarvi, cerchiamo di trovare uno spazio qui, non vorrei darvi le spalle, ok. Michael Kors già inizia a cambiare un po', perché quelli che abbiamo visto fino a prima erano prettamente maschili, qui non solo abbiamo anche versioni femminili, ma abbiamo l'orologio intelligente che vi dicevo prima, quindi il normale orologio con funzionalità aggiuntive come questi, orologi che sono connessi, quindi hanno contagalorie, contapassi, sono orologi che ovviamente esteticamente sembrano semplicissimi, questo per esempio sembrerebbe totalmente un orologio normale, ma in realtà è connesso in bluetooth, speriamo di non romperglielo, delle funzionalità aggiuntive. Ci sono, come vi accennavo da Michael Kors, smartwatch, sempre con Snapdragon 2100, lo stesso equipaggiamento hardware, però modelli un po' più votati all'utilizzo da parte di noi donne, e ne manca però in questi purtroppo lo speaker audio. Ci sono ovviamente anche modelli maschili, però la linea, vi faccio vedere, è più che altro espansa rispetto agli altri brand, perché pensa, fra virgolette, anche al pubblico femminile. Questi sono i modelli maschili di Michael Kors. Ok, ci spostiamo adesso e andiamo a vedere velocemente, sempre le stesse caratteristiche, che si tratta di dare un'occhiata anche agli altri brand, cerchiamo di farci spazio nello stand e ci troviamo davanti agli smartwatch di Fossil. Fossil, come Michael Kors, ha previsto orologi sia intelligenti, quindi a lancette, ma con funzionalità aggiuntive, sia smartwatch. Questi sono quelli a lancette con funzionalità aggiuntive, ce ne sono di differenti varianti e modelli come questo, anche qui purtroppo il refresh rate non è il massimo delle luci, quindi non si vede benissimo. Ci spostiamo da questa parte e vediamo che ci sono modelli maschili, ma anche femminili, di smartwatch dotati di Android Wear 2.0. Anche in questo caso, speaker audio presente, ma solo nella versione maschile. Ci spostiamo ancora e andiamo a vedere gli orologi, che non sono smartwatch, ci sono scritto a lancette, ma con funzionalità aggiuntive, lanciati invece da Skagen. Ci spostiamo da questa parte. Sorry. Allora, siamo arrivati da quelli di Skagen, sono essenzialmente questi orologi esclusivamente a lancette, con funzionalità aggiuntive. Anche qui la linea è molto molto elegante e ci sono diverse varianti. Cinturini dovrebbero essere assolutamente intercambiabili, vengono chiamati hybrid smartwatch, forse dovrei smetterla di chiamarlo orologio intelligente, hybrid smartwatch è l'ideale. Ad ogni modo, facciamo un giro veloce delle varie tipologie presenti. Peraltro mi parlavano di funzionalità particolari, perché oltre a contapassi e calorie, si ricevono anche le notifiche di SMS chiamate. Peraltro mi diceva che le lancette vanno a spostarsi, in modo da permetterci di riconoscere il tipo di notifica. Ovviamente in una recensione completa potremmo espandere meglio questo concetto. In ultimo c'è Misfit, che ovviamente ha lanciato il suo device, ed è Misfit Vapor. Come vedete lì c'è un drappello di gente, spero di riuscire a farmi spazio. Ci spostiamo un attimo. Allora, scusami. Ok, si sa che non è possibile spostarci, Misfit Vapor. Sono questi qui, è una linea di smartwatch, un po' più particolare, un po' leggermente più sportiva, questa linea di Misfit. È una linea che ha lo stesso equipaggiamento hardware, essenzialmente, degli altri smartwatch, e mi pare però non abbia speaker audio. No, questo ha solo e soltanto il microfono. E una cosa importante a chiudere di questi smartwatch è la presenza assolutamente del Wi-Fi. Intendo che tutti gli smartwatch del gruppo Fossil, tranne chiaramente gli smartwatch ibridi, sono dotati anche di Wi-Fi. Chiaramente, essendo il processore Snapdragon 2100, c'è questa scheda Wi-Fi che consente, questa è una cosa molto molto utile sugli smartwatch, non sono chiaramente gli unici, di rimanere connessi anche se il Bluetooth è staccato, perché le notifiche poi arrivano direttamente tramite internet quando il device è connesso al router. Bene, dallo Stendi Fossil è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao! Ciao! Ciao!